Dopo San Martino in Pensilis e Ururi, quest'anno niente carrese anche a Portocannone. I sequestri preventivi di buoi, cavalli e carri effettuati dai carabinieri del NAS, confermati dal Tribunale del Riesame, non hanno consentito lo svolgimento della corsa dei carri nei tre paesi, lasciando aperto un interrogativo sul futuro di queste manifestazioni. Nelle tre realtà del Basso Molise si discute tuttavia della possibilità di costituire un tavolo tecnico comune, necessario per scrivere nuove regole e superare gli ostacoli che oggi non permettono in sostanza di organizzare gli eventi ai quali la Procura di Larino ha posto un freno con un'inchiesta che riguarda il maltrattamento degli animali. Nove associazioni, amministratori, avvocati e altri professionisti sono dunque al lavoro per individuare una soluzione per espletare quello che, al di là degli aspetti giudiziari, l'antropologa Katia Ballacchino ha definito un diritto culturale da salvare. Io sono senza ombra di dubbio convinta che le carresi abbiano tutta la degnità di dover necessariamente continuare. Le carresi fanno cultura, producono cultura e sono cultura. Quindi le pratiche, i saperi, le tecniche che queste comunità hanno in qualche modo secolarizzato nelle loro pratiche quotidiane non può che farmi dire che queste corse devono assolutamente continuare ad esistere. Chiaramente è quello che nella nostra competenza scientifica, come per altre anche competenze, faremo di tutto affinché la questione venga risolta nei limiti di quello che un'università e la ricerca in Italia ha possibilità di dire e di fare chiaramente. Però il futuro, io auspico che ci sia un futuro. Le carresi sono state anche al centro di un seminario organizzato alla sede di termoli dell'Università del Molise. Un confronto tra carristi, ricercatori e studenti che la Ballacchino, impegnata in uno studio sul campo con la professoressa Letizia Bindi, ha voluto approfondire. Soprattutto rispettando le regole, delle regole chiaramente condivise e negoziate con loro, con i protagonisti. Non si deve avere paura di parlare con i protagonisti perché sono loro che emozionano le comunità, che emozionano le istituzioni, che emozionano i territori. Quindi sono loro che devono essere ascoltati.